Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Free Station, sono Silvia Mangione, sono a Destoril in Portogallo, vicino Lisbona. Fantastico, Rasgatliogu in pollo, 82 millesimi tra il Turco e Petrucci. Danilo Petrucci ha piazzato il tempo della polo provvisore, 1.52, 6.40. Rea torna i box tra 4 minuti e mezzo dalla fine per poi entrare in pista. Alla fine la polla di Rasgatliogu con 1.52, 430 per soli 82 millesimi ha beffato Danilo, il quale ha visto sfumare il sogno della polo soltanto all'ultimo settore. Rea scarperà invece dalla terza casella e si tratta per lui della migliore super polo da Assen. Quattro crano per il compagno di boxeria Andrea Locatelli, partirà davanti a Nicolo Bulega e a Michael Van der Mark. Quindi vediamo alla fine della super polo Rasgatliogu, Danilo Petrucci, Rea, Locatelli, Bulega e Van der Mark e noi ci risentiamo tra poco per quanto riguarda la bellissima gara 1. Dai Storil, Portogallo, Bel Tempo. Ciao!